Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo mercoledì di overvolte, anche se in realtà non lo vedete perché col cellulare si vede poco, è piuttosto buio, siamo prima dell'alba, sono le 6.05, 6.10 tipo, e siamo in bicicletta con un drone attaccato sul portapacchi, spero si veda, ho anche un cavalletto nello zaino, ma attacco un drone sul portapacchi, e stiamo andando a fare un voletto all'alba, prima che Francesco abbia scuola, ci siamo svegliati alle 5.30 e stiamo andando a volare. Ho portato l'FPV montato ieri sera e bisogna provare assolutamente l'FPV oggi, o oggi, non riesco a parlare, è troppo presto la mattina. Siamo vivi, siamo arrivati, i lampioni sono ancora accesi, però comincia più o meno a spuntare un po' di luce, si vedono già le montagne da dietro, e abbiamo i droni, quindi andiamo a divertirci, visto che ci siamo alzati prestissimo, solo per quello. Igo! 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 Ed eccoci qua, è una postazione un po' inusuale per un mercoledì di overvolte, però più tardi nel pomeriggio devo registrare altri video, quindi ho detto intanto monto tutta la baracca e per una volta avremo un mercoledì di overvolte con una luce decente, perché in realtà non è che mi piaccia tantissimo neanche la luce che c'è così. E quindi passiamo alle cose serie. Innanzitutto che figata ragazzi l'FPV, che figata l'FPV, è bellissimo, è bellissimo guidare in FPV, non ne avevo idea. Io l'ho scritto sul canale Telegram il giorno stesso appena sono tornato, e se non mi seguite su Telegram seguitemi. Ho scritto che figata, non me lo immaginavo, perché anche se è un bestione da un chilo e mezzo, che comunque è parecchio, e ha un sacco di inerzia in aria, però è divertentissimo guidare in FPV. Prima io lo alzavo, se ero all'aperto facevo un po' di donut, un po' di otto, però comunque è sempre difficile controllarlo se vai a vista. E quindi sì, mi limitavo a fare un po' di corse su un prato molto aperto. Se invece il prato non era molto aperto, semplicemente salivo, davo un'occhiata al panorama. Però mancava quel brio, con l'FPV puoi fare quello che ti pare, corri come un denno, è bellissimo. E dicevo, anche se pesa un chilo e mezzo, quindi tu stai correndo, fai la curva, e quello là continua ad andare nella direzione di prima, perché magari stava correndo veloce e ha un'inerzia terribile. Comunque è molto divertente guidare, tanto poi ci si abitua. Magari in futuro mi piacerebbe avere un drone da racing di quelli classe 22, proprio piccolini, 20 addirittura, 19 addirittura li fanno. Sarebbe figo averlo, però costano un sacco di soldi e attualmente non ho soldi, perché li ho spesi tutti in una cosa che dovrebbe arrivare esattamente oggi pomeriggio. Sto aspettando il corriere qui, infatti ho la porta aperta qui. Sto aspettando il corriere che mi venga a suonare, perché sta arrivando il più grosso acquisto che io abbia mai fatto, suppongo. Penso proprio di sì, perché spendere 820 euro, non li ho spesi nemmeno per il telescopio, spendere così tanti soldi in una volta non li ho mai spesi in vita mia, veramente. Comunque volevo parlare un po' di cose in questo imdo, anche se ormai sono passati circa 7-8 minuti, non ne ho idea. Comunque all'inizio ho detto, ma sarà una buona idea fare questi mercoledì di overvolt? Speriamo mi facciano abbastanza domande, perché in realtà io non so cosa riuscirò a dire tutte le settimane, non so se avrò di cosa parlare in un vlog tutte le settimane e cose varie. Invece mi avete riempito di domande, perché ogni mercoledì ne faccio tantissime e riesco a finirle, e puntualmente il mercoledì dopo mi trovo inondato di domande di nuovo. Quindi veramente grazie, continuate così, continuate a fare un sacco di domande con l'hashtag imdo. E come argomenti da parlare ho dovuto addirittura fare un Google Keep, adesso la telecamera sarà abbagliata, quindi voi non vedrete nulla, ma meglio così perché almeno non vi spoilerà. Ho dovuto fare un Google Keep, c'è un elenco puntato lunghissimo, di tutti gli argomenti di cui devo parlare in questi imdo. argomenti che mi avete suggerito voi, argomenti che mi vengono in mente durante la settimana, è veramente troppissima roba, quindi proseguiamo subito a parlare di qualcosa. E tra l'altro, una cosa che non avevo messo in lista, quindi che vi dico subito, tra l'altro buttando via un sacco di roba per il trasloco, ho salvato della roba elettronica e ho quindi trovato il materiale per fare due progetti fighissimi. Non so se dirvelo, quasi quasi non ve lo dico che progetti sono, però vedrete tanta tanta roba. Se volete qualche anticipazione, uno può rientrare nella serie di hacking, anche se è un dispositivo hardware. Mentre l'altro può rientrare nella serie di domotica, anche se può essere considerato una cosa a parte rispetto alla serie di domotica che faremo, però comunque rientra nell'ambito della home automation domotica e cose varie. Fichissimo, fichissimo, non vedo l'ora! Volevo parlarvi, in questo poco tempo che mi rimane di IMDO, volevo parlarvi delle normative ENAC, cioè le normative per quanto riguarda il volo dei droni. Questa è una cosa che mi avete chiesto in molti, nei commenti di vari video, e anche ha ragione, nel senso che abbiamo fatto un video con Francesco tipo un anno fa, sulle normative, però in un anno sono cambiate nel frattempo. E quindi quale migliore occasione di un mercoledì di overvolte per parlare di un argomento che è così breve? Mi hanno suonato il campan... mi hanno suonato il citofono? Ragazzi, è arrivata! È arrivata! Guarda com'è! Copri il logo dell'azienda, non mi pagano nemmeno una manata gratis! È arrivata, è arrivata, è arrivata! Ok, niente normative dell'ENAC, ne parliamo la prossima settimana, perché, no, in realtà veramente abbiamo perso un sacco di tempo con il drone e in chiacchiere in questo video. Quindi, ah, è arrivata, è arrivata! Quindi in questa ultima parte di video, a sto punto, rispondo velocemente a qualche domanda e non riuscirò neanche a rispondere a tutte. Però non posso lasciarvi con la suspense di cosa c'è dentro. Io adesso vi metterò qualche secondo del video di unboxing di questo paccone che uscirà tra due settimane, visto che... Cioè, non sabato questo, che esce Hacking, ma sabato prossimo. Ci vediamo tra pochissimo, ciao! Io vado a procurare un taglierino. E proviamo dentro. Che bella! Che bella! E poi ce l'hai! Guardate che bella! Tra l'altro è leggerissima, cioè non è leggerissima, pesa un sacco. Pesa più di una macchina fotografica, compatta, già senza obiettivo. Però me la immaginavo più pesante. Clac, va in posizione! Guardate che bestiaccia! È bellissima! Guardate che design! Uh! Si è accesa! Vedo cose! Gli su auto! Tanto è comodo usare la... Guardate! Ecco, questo qua era proprio un piccolo spoiler sul video che vedrete, perché dovete aspettare due settimane. Non volevo lasciarvi col fiatto sospeso. Comunque, in quel video ho detto un sacco di cose interessanti. Cioè, che potrebbero interessarvi. No, dai. Cioè, comunque cerco sempre di riempire i video di contenuti e di informazioni interessanti e di cose varie. Spaccettamento epico! Scusate, ho avuto un attimo di... Stava uscendo la parte youtuber gamer che c'è in me. Ma non farò mai giochi. Comunque, io sono qua con questa piccina qua tra le mani. Non la sto usando per finire questo video perché era scarica. Perché mi è arrivata scarica, quindi ho già il caricabatterie qui. Però non lo sto ancora usando. Non avevo voglia di andare in un'altra stanza, togliergli la batteria e far cose. Quindi la mettiamo qua in un angolino che però si veda. Ecco qui. Qui, la metterò qui. E cerco il mio cellulare, eccolo qua dietro, per rispondere a proprio due domande, tanto per, tanto per, tanto per. Rispondo alle prime due che mi capitano sotto gli occhi. Allora, di sicuro non le trovo in questo video, ma le trovo nello scorso Mercredi di Dovervolte. Che in realtà ha fatto un sacco di visualizzazioni. Quindi i titoli clickbait funzionano? Cioè, in realtà la sfiga non era un titolo molto clickbait perché era veramente un video denso di sfortune. Però ha fatto un sacco di visualizzazioni. Comunque, quelle persone che mi hanno telefonato durante il video scorso, io non volevo denigrarli perché parlano male, perché parlano nel dialetto della loro lingua, perché anche a me spesso capita di parlare nel dialetto della mia lingua. La mia frase, non siamo in Burundi, era semplicemente relativa al fatto che era palesemente una truffa, nel senso, esci di casa che devo consegnarti un motorino, era palesemente una truffa. Cioè, era palesemente quella che ti chiamano per darti una bastonata in testa e rubarti il portafoglio, non so, per dire. Uno che mi telefona e mi dice, esci di casa che ti devo consegnare un motorino, è difficile che uno che sbaglia il numero capita proprio nell'occasione in cui deve dire esci di casa, perché con tutti i tipi di telefonata che possono esistere al mondo, proprio la telefonata in cui dice esci di casa, è difficile che ci sia la probabilità che è proprio quello che aveva svegliato il numero. Quindi non volevo denigrarlo perché parlava con accento napoletano o cose varie. La mia frase, siamo a Trento, non siamo mica in Burundi, era perché, cioè, truffa e del genere. Non è che dico, oh che figata, un motorino gratis, aspetta che scendo e ti apre il cancello, anche se non so come facesse ad aver collegato il numero di telefono al mio indirizzo. Vabbè, comunque rispondiamo a queste due domande velocemente. lancio il coso e vedo un hashtag imdo cosa ne pensi dell'Inspire 2, ma ti piace vincere facile, cioè mi hanno chiesto cosa ne pensi del Mavic e ti ho detto che sono innamorato del Mavic. Se mi chiedi cosa ne pensi dell'Inspire 2 ti dico che non lo comprerò mai. Allora, l'Inspire 2 è un drone fighissimo, cioè supera i 100 km all'ora di velocità se non sbaglio. L'ultimo Inspire è una bestiaccia, corre come un dannato. Resiste anche i climi sotto zero, è velocissimo, è stabilissimo. Anche questo qui ha il tocca e vai, tablet, cose varie. Ha una telecamera col contro cojones che registra, fa video in RAW, fa video in RAW. SSD integrato per fare i video in 4K. Streaming video su piattaforme internet addirittura. streaming in 1080, cioè fuori di testa, streaming in 1080 da un drone. Addirittura si piega, cioè lui quando decolla è così, in modo che ha le zampe che appoggiano a terra. Poi decolla e si piega, in modo che la telecamera che sta a centrale si abbassi e non inquadri le zampe, quindi tu con la telecamera hai una visione a 360 gradi senza inquadrarti le zampe. Bellissimo, mi piace un sacco, però non lo comprirei mai, perché? Perché intanto costa 1900 euro ed è fuori da ogni mio budget presente e futuro di tutte le vite che esistano. E seconda cosa perché un drone è piuttosto ingombrante e piuttosto difficile da usare. Non mi spaventa il fatto che sia difficile da usare, però se io devo usarlo per fare video impromptu, cioè proprio un video nel senso che bello, lo appoggio lì, lo alzo in aria, faccio un video, faccio una programma, è un po' complicato da usare. Oltre al fatto che è piuttosto ingombrante, lo usano per farci i film. È un ottimo trezzo per gente professionale. Io se mi dicessero scegli un drone qualsiasi dal catalogo DJI, probabilmente non prenderei l'Inspire. Prenderei o il Phantom 4, che è un grandissimo drone, è quasi a livello dell'Inspire come qualità video, però è più piccolo, è più maneggevole. Oppure il Mavic, il Mavic perché si piega, ti sta nello zaino e quando vai in aereo, quando vai in giro, il Phantom 4 lo devi metterlo in stiva o comunque è più difficile trasportare il Mavic, lo metti nello zainetto, te lo porti via, è molto più dinamico come drone. Potresti fare un video di esempio su come utilizzare i quadro C con giroscopio o con un sensore in generale. Quello che avete visto nel video dell'i quadro C era un giroscopio, uno dei tanti sensori che ho usato come esempio. Era un giroscopio accelerometro bussola e funziona attraverso i quadro C. Quindi ce l'ho già, quindi sì, vi farò il video. Però sta venendo veramente troppo lungo, quindi perdonatemi, non mi fermo alla seconda domanda. La prossima settimana, lo prometto, non andremo in giro a quadrone, cioè andremo in giro, farò i filmati ma meriterò per conto mio, non vi mostrerò i filmati durante i mercoledì di Overvolt, così avremo un sacco di tempo per parlare di tutte le cose che ho nella playlist, tra cui le normative ENAC, promesso. Ma per questo lunghissimo video di mercoledì è tutto. Io vi do appuntamento a sabato per il video di hacking, a mercoledì prossimo per un nuovo vlog, sabato dopo per l'unboxing barra prime impressioni di questa, perché non posso chiamare la recensione, però... Oh, che bella! Devo ancora capire come si usa, vedrete nel video che speriamo cose a caso e non succedono niente, quindi devo ancora capire come si usa. Vi ricordo inoltre di lasciare un bellissimo mi piace se questo video vi è piaciuto e io vado a passare qualche ora nelle impostazioni della macchina fotografica, non prima di averla ricaricata. Ci vediamo sabato con hacking, ciao a tutti! Ciao a tutti!